ascoltate bene noi siamo una banda di ladri e quando sei un ladro finisci col farti dei nemici e a volte questi nemici cercano vendetta a dire la verità abbiamo aiutato la persona sbagliata a rubare la cosa sbagliata non volevamo scatenare il male peggiore che il mondo abbia mai conosciuto ma rimedieremo ah sì come facciamo ci beviamo su e ci pensiamo ottima idea combatteremo il male ma avremo bisogno di forza tu ce l'hai vero tu sicuramente no avremo anche bisogno di coraggio di magia e di te e quello cos'è è un orso gufo state attenti il male è qui sono felice che sia dei nostri lui è pericoloso ma qualunque cosa ci attacchi noi saremo pronti qual è esattamente il tuo ruolo qui io sono la mente studio il piano ormai l'hai studiato il piano se questo dovesse fallire ne studierei uno nuovo quindi fa i piani che falliscono no suona anche il liuto questo è irrilevante no suona anche o che